Ciao a tutti! Oggi prepareremo la caponata di melenzale. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 45 minuti. Gli ingredienti sono aceto, zucchero, capperi, uva passa, cipolla, olio, pomodoro, pinoli, sale, olive, nocciolate, sedano, basilico, melenzale e pepe. Diamo il video alla ricetta. Andiamo a mettere all'interno del boccale la cipolla. Andiamo a tritare per 10 secondi, a velocità 10. Andiamo a unire l'olio. Prendiamo sul fondo con la spatola. Chiudiamo. Andiamo a insaporire per 5 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Adesso posizioniamo la farfalla e uniamo le melenziane. posizioniamo lì. Andiamo a cuocere per 10 minuti. 100 gradi. Anti-orario. velocità 1. Adesso andiamo a cuocinare. 5 minuti. 100 gradi. Anti-orario. velocità 1. Aggiungiamo adesso la salsa. e andiamo a cuocinare per 10 minuti. 100 gradi. Anti-orario. Velocità soft. uniamo adesso i pinoli. Un po' di sale. le olive. Le olive. Le olive. Le buvetta. Le basilico. Capperi. zucchero aceto e pepe nero andiamo a cuocere altri 10 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft la caponata è pronta andiamo a impiattare caponata di melenzane grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti